Questo è il periodo dell'anno in cui vengono assegnati i premi Nobel. Il Nobel, come sappiamo, è uno dei premi più prestigiosi, più importanti al mondo ed è anche un premi piuttosto ricco perché i vincitori in ciascuna categoria si dividono una somma di circa un milione di euro. I premi verranno annunciati la prossima settimana. Si inizia con il premio Nobel per la medicina e poi si continua con quello per la fisica, per la chimica, per la letteratura, per la pace e infine per l'economia. Naturalmente il premio Nobel per la fisica è quello che interessa di più a chi segue questo canale, suppongo. Poi vedremo magari anche se commentarlo più avanti. Ma in questo video volevo parlare di un po' di curiosità generali sul premio Nobel, in particolare sul premio Nobel per la fisica, e soprattutto di una cosa che ho notato non essere chiara a molti, cioè come si assegnano i premi Nobel. È vero o no che si può essere candidati al premio Nobel e qual è la procedura di selezione? E che cosa scopriamo andando a curiosare negli archivi del premio Nobel? Proviamo a capirlo. Allora, come funziona? Si può essere candidati al premio Nobel? Sì, si può essere candidati, anzi in realtà si deve essere candidati perché l'assegnazione del premio funziona proprio per candidatura. Cioè la procedura di selezione inizia proprio con la richiesta di indicare dei possibili candidati per il premio Nobel. Ma le nomine non possono essere fatte da chiunque. Nel caso del Nobel per la fisica, a settembre dell'anno precedente all'assegnazione del premio, il Comitato dell'Accademia Reale delle Scienze Svedese invia a una lista di persone molto selezionate la richiesta di candidature. Questa lista include, oltre ad altri membri dell'Accademia, anche precedenti premi Nobel e professori di fisica sia in istituti che in università in tutto il mondo. In tutta la lista di persone che sono qualificate per esprimere una candidatura per il premio Nobel include circa 3.000 nomi. La scadenza per l'invio delle nomine è il febbraio successivo, dopodiché inizia la procedura di selezione vera e propria. Cioè i membri del Comitato si riuniscono, vagliano le candidature e selezionano alla fine il vincitore che viene annunciato a ottobre di ogni anno, poi il premio materialmente viene assegnato a dicembre. È importante notare innanzitutto che il vincitore del premio Nobel non è la persona che ha ricevuto il maggior numero di candidature. Il Comitato può scegliere come vuole, poi c'è tutta una serie di cose importanti che riguardano anche il processo di candidatura, oltre che il processo di selezione. Per esempio non ci si può autocandidare al premio Nobel, bisogna essere candidati da qualcun altro. Poi tutta la procedura di selezione è completamente riservata, ma è riservata anche la lista dei candidati. Non si possono conoscere i candidati al premio Nobel per 50 anni dopo la nomina. E in più, se uno dei candidati è ancora vivo, il segreto si estende perché finché la persona è in vita non possiamo sapere se è stata candidata. Quindi se qualcuno afferma con certezza di essere stato candidato per il premio Nobel, o sta violando il segreto di riservatezza, oppure sta dicendo una cosa che non può veramente sapere. Naturalmente essere nominati per il premio Nobel per la fisica non è di per sé un merito speciale, perché ci sono tantissimi studiosi che sono stati candidati per il premio Nobel e non hanno mai vinto. Se si va a guardare la lista di nominati in fisica tra il 1901 e il 1970, che ormai è pubblica, la lista include centinaia e centinaia di nomi. Però è anche vero che siccome le nomine possono essere fatte solo da studiosi molto qualificati e selezionati, se si finisce candidati per il Nobel per la fisica significa che si è dato un contributo importante nella propria disciplina. A ogni modo, sul sito del premio Nobel c'è un archivio che è consultabile dei candidati passati al premio Nobel per la fisica. Ripeto, si può fare soltanto per il periodo precedente agli ultimi 50 anni. E andando a guardare in questo archivio si scoprono delle cose piuttosto interessanti. Prima di andare avanti volevo segnalarvi il mio nuovo libro, Il Cosmo in brevi lezioni, che raccoglie gli articoli che ho scritto negli ultimi dieci anni per il mensile Le Scienze, appositamente rivisti e organizzati per argomenti. Lo trovate in tutte le librerie e negli store online. Vi lascio il link nella descrizione. Quindi, consultando l'archivio dei candidati al premio Nobel si trovano diverse curiosità. Quasi certamente il primo nome che andremo a cercare sarà quello di Albert Einstein, che ha vinto il premio nel 1921. L'archivio ci dice che Einstein è stato nominato ben 66 volte tra il 1910 e il 1923. Einstein, tra l'altro, non ha vinto per la relatività, come potrebbe sembrare naturale, ma per le ricerche sull'effetto fotoelettrico. Vediamo anche che lo stesso Einstein ha espresso candidature per altri scienziati. Questo è avvenuto in nove occasioni. Einstein ha nominato tra gli altri scienziati famosi come Max Planck, Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg. Scopriamo anche cose meno belle. Per esempio, scopriamo che Lisa Meitner, che è stata una studiosa determinante nella scoperta e nella descrizione della fissione nucleare, è stata nominata per ben 49 volte tra fisica e chimica, ma non ha mai ricevuto il premio. E in generale, come si sa, le donne sono sottorappresentate. Sempre nel periodo tra il 1901 e il 1970, solo dieci donne sono state nominate e due hanno vinto. Una è Marie Curie, che tra l'altro ha vinto anche il premio in chimica ed è l'unica che ha vinto in due categorie scientifiche, e l'altra è Maria Geppert Mayer. Solo altre tre donne hanno vinto nel periodo successivo, al 1970, e tutte nell'ultimo decennio, ovvero Donna Strickland, Andrea Goetz e Anne Ligier. Un altro squilibrio notevole nelle candidature è la distribuzione geografica. Più di un terzo dei nominati sono americani. Il fisico più nominato in assoluto negli archivi è Murray Gelman, che ha raccolto la bellezza di 126 candidature e ha vinto il premio nel 1969. Lo scienziato che invece ha ricevuto il maggior numero di candidature senza però mai aver vinto il premio è Arnold Sommerfeld, che è stato nominato ben 84 volte, ma non è servito a nulla. Al contrario, due nomi che non diranno molto a nessuno oggi, ovvero Nils Dahlen e Charles Barkley, vinsero rispettivamente nel 1912 e nel 1917 pur avendo ricevuto una sola nomina a testa. E poi ci sono nomi di grande notorietà popolare che però non sono mai stati praticamente considerati per il premio, ad esempio Nikola Tesla o Thomas Edison, che sono stati entrambi nominati una sola volta. E Robert Oppenheimer, di cui si è tornato a parlare molto dopo il film di Nolan, è stato nominato quattro volte ma non ha mai vinto. I nostri Guglielmo Marconi e Enrico Fermi invece sono stati nominati rispettivamente 15 volte e 38 volte, entrambi come sappiamo poi hanno vinto il premio per la fisica. Tra l'altro Marconi risulta anche in veste di nominante per un premio che però non c'entra niente con la fisica perché nel 1934 Marconi fu l'unico a nominare per il premio Nobel per la literatura Luigi Pirandello che in effetti vinse quell'anno. E' andata meno bene a un altro italiano, Augusto Righi, che risulta nominato ben 40 volte, non come Sommerfeld ma quasi, e anche lui non ha mai vinto. E un'altra curiosità è che il premio non può essere assegnato postumo. Questa è la ragione per cui ad esempio l'astronoma Henrietta Leavitt, che pure lo avrebbe strameritato, non poté mai essere nominata. Leavitt, come abbiamo raccontato anche altre volte nel canale, scoprì un modo per misurare le distanze nell'universo che fu applicato con successo da Edwin Hubble nel 1924 per misurare per la prima volta la distanza della galassia di Andromeda, ma purtroppo a quel punto Henrietta Leavitt era già scomparsa da tre anni. Tra l'altro lo stesso Hubble non ha mai vinto, ha ricevuto solo tre candidature e tutte nell'anno della sua scomparsa. Altra curiosità, il premio Nobel per la fisica non può essere vinto da più di tre persone, cosa che sempre di più crea difficoltà, adesso che molte scoperte importanti in fisica sono fatte da grandi collaborazioni di centinaia o addirittura migliaia di persone. Insomma, l'assegnazione del premio Nobel è un processo piuttosto laborioso e anche circondato da un certo alone di mistero. Tra l'altro un'altra cosa da sottolineare è che il premio Nobel una volta assegnato non può essere revocato. Forse anche per questo e soprattutto in passato trascorrevano molti anni dal momento in cui veniva annunciata o fatta una scoperta al momento in cui effettivamente quella scoperta veniva premiata. In generale il Nobel per la fisica tende a essere assegnato con molta cautela e quindi è un premio che ha anche degli aspetti un po' conservatori. Ormai esistono tra l'altro anche molti altri premi per ricerche in fisica, ma certamente il Nobel continua a essere il più ambito e il più prestigioso. Naturalmente i premi non sono tutto e il fatto di aver vinto un Nobel non è certo l'unico metro per giudicare l'importanza di una scoperta in fisica, però un riconoscimento come il Nobel è un tributo meritato a lavori molto importanti. Serve anche da ispirazione alle generazioni future, spinge giovani scienziati a esplorare nuove strade e a cercare la risposta a domande ancora aperte. Secondo voi chi dovrebbe vincere il premio Nobel per la fisica quest'anno? Scrivetelo nei commenti se vi va.